No, io no, io no Allora, allora, allora Vabbè il mio obiettivo sarebbe fare cose ma Non posso Il mio obiettivo è prendere un catarizzatore Per fare più di 12 danni No, non c'è le frecce supreme, no, è migliorato, scusa, le trovate No, con le migliorate le trovi Dove sono le balestre Dove sono le trovate? Dove sono le trovate? Non aveva passato Qualissimo Il falocetico più vicino Ovviamente mi sa che anche un incantesimo, una strotta, incantesimo In realtà forse più vicino era abbastanza vicino Era alla Bastiglia apertura, quindi Quindi è perfetta, perfetta Perché non c'è ne vinda me Buona mamma C'è 11 livelli sa, 1.000 anni mi piace lì eh Mi dà questa cosa Io toglielo 34 mi danno 2.400 E qua adesso in realtà il mio obiettivo è portare 20 di fede Poi mi fermerò con un attimo con il giro di fede Anche perché non la fiamme la piromanzia sarebbe un po' inutile Per noi più romanzia il nostro obiettivo è il tizzo del sangue eh Tizzo del sangue? Sì perché da combustione migliorata e da frusta di fuoco Tizzo del sangue! Sono entrambi i romanzia molto forti Quindi io lo faccio a fare i cavalli Mi mani fuori il cavallo e va bene Se non mi dispiace Un naso con tutto questo tempo fuori Un nascita al pittimo Ok, meglio Ok, vediamo di qua che c'è E qua, va bene, basta Ok, vediamo di qua 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 Ovviamente Qua si fa il saltino e basta Ok, vediamo di qua Non si batte la testa Ok, vediamo di qua 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 Perfetto Ok, vediamo di qua Ok, vediamo di qua Ok, vediamo di qua Hola 12 ma fa meno della spalla ma è più veloce pietra oscurante la solata per l'alto il forte amante per mettere l'oscurità però pensavo della sentinella flessibile non ha male spada cura non c'è ancora il cochi di fede per fare qualsiasi cosa dobbiamo fare qualsiasi quali per la vita di due ok arriva la fa della sentinella oscura e della sentinella flessibile non è male non l'ho mai usata ciao ciao cochi adesso puoi insultarlo vede fuck un cazzo di gesto scavo un cazzo ah 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 di gente per cura chan panolo ben appena qua schiena più avanti vera dvd stella robicola ma vi evoco sono un attimo dal fabbrino si sono stati anche a cosa evo chi dove non so aspetta un attimo devo pensare una cosa costo non so molto bene ora posso rimettermi al lavoro torna più tardi ma che più tardi e si mette al lavoro lì tutto depresso ma fa un culo vede guarda con la bestia con la la secondo me a te piace aspetta che evito di farmi picciare malamente dicevo quella bestialina la secondo me come animale da casa non è male vedo due si fanno così ma va bene aspetta ma sono preso basta preso vado da facciamo cosa qua no Ma cosa ci fa questo qua qua sotto? Ma da dove? Ho l'arma al più due Salco Meglio di niente dai Vero sir Tutto meglio di un calcio in culo Certo Dove devo venire Koki? Torre cardinale Ok Vedi? Vedi che c'è qualcosa? Se non avresti detto ancora Ma che cazzo? Ma che ragionamenti contratto è? Ma ormai so come ingannarvi raga Ma ormai so come prendere informazioni Sì So come storcere informazioni senza chiedervi e senza farvi domande Adesso che mi hai detto io so come tu prendi informazioni e potrei dire cosa è cazzo Sì 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 Ma lo metto lì anche io? Sì Sì Io l'ho messo in un altro posto No dove? Dove? Eh no vabbè andiamo all'ortone cardinale vaffan Eh no no dimmi dove Ok ho appena distrutto la tua terrania su come ingannarti ti stavo ingannando Ah vabbè i vecchi di giù Ma aspetta Ah non aspetta me Ma cazzo vai Ti è ingannato ormai ho capito la vostra mentalità Eh anche noi conosciamo la tua è stato anche molto molto fragile Ma sì ma eh dobbiamo fare come È come una sfermetta d'anima che spacchi con una mano Dobbiamo fare come dicevo anche con i miei amici quando stavamo iniziando a dar su su due Vedete sì dar su su non ricordo no? E hanno detto eh Uno dice le cose giuste e l'altro dice le cose opposte Oh chi ha messo? Oh ma dove è andato il quadro? Stato sotto Sceso sceso Guardi tu uno dei due per indicare chi dirà la verità No L'altro dirà la cazzata E hai fatto in fretta copy Sanno copy Devo ancora imparare il moveset di quest'arma E' fortissimo Do togliere lo scudo E' inutile questo gioco lo scudo Ora vi mostro la piena potenza Perché adesso è tornata umana Ma raga ehm Le figi umane Le uffi Le uffi Le uffi Le uffi Le uffi Non sapevo il plurale Le uffi 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 Potete tropparmi le 1 o 2 Io ne ho giusto tre Io ne ho tre Te neutrò un paio io cochi Va bene ho ancora ma io tre Ke Striake Di Panda dopo dopo Tanto non morirò più per stasera Ma non vedo segno di Eccolo non deve stare mai da usare doppie mani ovvio a doppie mani o in due mani nel senso che non vuole due mani destra e due sinistri due fagli di mani eh però piglio più danni sì perché lo scudo è inutile ma no ma schifo ora guarda me che scudo che ho un po' di sotto ma chi cazzo è che cazzo voleva avrei notato bene che anche se stai aprendo porte non sei mortale o quando entri nelle tutte le azioni praticamente anello del ripristino e torcia ma è già qua è già qua ok ma lo metto hai notato qualcosa degli anelli si ho notato che ho due slot in più vero strabello beh deve ringraziare darsus 2 se elderring ne aveva 4 figo deve ringraziare chi? deve ringraziare darsus 2 ma è la prima volta che hanno messo i 4 ma guarda che su elderring non ne avevo 4 ma non si ricorda di fare un cazzo cochi ma bro ma non ne avevo 4 non sono 4 Matt si si certo che sono 4 stai trovando i cochi non mi sto trovando io non mi sto trovando io grande lancia mi vincolo 22 di bella però eh qua voglio lo scudo però non mi sto trovando i cochi ti stai trovando io non mi sto trovando io no no ti fidi di me ricorda cosa ti faccio danno non ti faccio danno riporto 87 oh mi puoi vediamo quanto gli ho fatto io quanto gli ho fatto io non lo so 6 Matt eh eh non picchiarlo più dai non fai danno volevi il gioco copre dove tutti ci aiutavamo io contribuisco anche con i miei 6 danni ma non contribuisci è quello il problema eh niente l'importante è partecipare bene 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 mostra il simbolo del re chiamai che dopo fede va in giro in ufficio di anche il Matt e viene carneato dal cochi questo è questa erba cosa serve l'erba eh la consumi l'erba ora la leggo aspetta ripristina leggermente gli utilizzi degli incantesimi ma che cazzo me ne frega ma che non fai il mago questo è il simbolo del re ma che simbolo wow 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 bellezza di sei da congno esatta aspetta aspetta non è spaccabile aspetta non è spaccabile stavo dicendo no non si può staccare se lo dice il gioco lo devi fare oddio vedo roba che fluttua cosa? si c'è no c'è anch'io un tizio un po' di haggdoll esatto un po' incollato al muro ma si infatti io pensavo che la strada giusta fosse di qua niente è andata è andata la strada o la mentalità? la strada è andata e dai non può essere andata a mentalità non lo so eh esatto per come funziona la tua mentalità? non lo so è anche poi così particolare oh oh una strada oh oh venite venite qua coche dove vede l'oscuro e dove vede l'oscuro di cuoio ah ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah perché stai usando puttana merda stai va be di qua eh chi lo so sti coglioni oh Aspetta, forse ho la chiave per qua Godo Cinquele Chi è? Chi è sto coglionello? Ehi Almo Non mettono un po' danno, non puoi aspettare Con il bastone Più col bastone Esco il voice Esco Ma questo d'asso tu non fai rumore quando cammini La fantasma, nooo Se lo hai nel pen, dal pen ha messo A quanto pare Io di troia Lo perdi ora Dai colpiscimi, dai Eh ma allora Non mi colpisce Il peri in Dark Souls 2 Il peri in Dark Souls 2 Perché? Cosa c'è di male, raga? Niente Questo è l'animazione un po' Un po' susse Sì Un po' susse Un po' strano Anima di soldati noto gemma vitale 3 Cioè x3 Eh x3 Si è odato il sun Intervenite Non abbiate paura Oh cazzo, cazzo Tu puoi dover Ho qualche paura No, quello di prima, no È andata? È andata ufficialmente? Ma cosa? Ma chi? La strada? La mia Mentale, sì Ah Ma se fino a 30 secondi fa Non è andata Adesso è andata No, ma sto qua vola anche No, 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 no Vengo io con i miei 5 danni e mezzo Ad aiutarti Beh Non è un buon scopo Non prende danni, non prende danni No, lo stai attaccando? No, no, certo Io l'ho attaccato Non l'hai attaccato? 5 Eh, lo attacchi ce lo scudo 76, 68 Ah, perché usava scudo Mi è attaccato Ma ho una domanda Ma hai usato la ratizzazione Se lo perdi, io No, se lo perdi Ma mamma, guarda lì Eh, raga, se lo perdi, io Puoi provare Eh, lo fa culo Mi fa colpo di scudo, però No, non si fa perriare Si può perriare? No, no Non si può Non ho cosa? No, no, vive Si può, cioè No, no, vive Vive E via il nano No, no Te lo dice anche il menthe Si sta scherzando il menthe Ah No, io sto percorrando il corpo Comunque vai, ti entrano un paio di volte Si metti quelle due vestigi Quelle due prezziose Vigili Io intanto Per meno Forse anche la trono Pesto il culo Pesti, sì Ma che parte Ma Vai, tornava al cartopro Si Buola, caputano Che spavento Si, ma Ma tipo Qua non prendevi danno in DS1 Dai, vive Non mentiamo No, non ho visto Se è caduto Lì, sulla Palafitta Da là Non prendevi danno in DS1 Ci potrebbe essere Un boroleo Ma il mio cartografo Il ragazzo è E tornava da solo Non può essere Non è così sveglio Ma tu vada da solo Se è Uno è qua sopra Ma vieni qua Ma dove sta andando Ma dove è andato Ma scendi qui Ma Ma dove sta andando 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 Andare avanti, livellarmi, farlo quando sarò forte E dove l'avanti Eh 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 Avanti Non ti piace la barna non usarla Eh no ma è l'arma più forte Eh ma è l'arma più forte che ho attualmente No comunque raga State calmi Perché Gli sto facendo un po' male Gli sto facendo male Ma chi è agitato? Eh voi Sì beh Sì beh Calma che No Coglione Coglione Oh Sono a metà vita quasi Oh Sono a metà vita quasi eh E' a metà vita E' a metà vita raga è metà vita E' a metà vita Nice Facci sogni Facci sognià I coqui Facci sognare i coi Ho 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 Ok Ah, dire che si andava avanti un peccetto Qua, se andava avanti un peccetto e poi c'era il tuo coro Per... Sì, c'era la parlo Sì, c'è una sola, no? Sì Ma stiamo scherzando? Un pochino scherzando Non mi ricordavo fosse forte, ma non così tanto Il persecutore? Anche Kat di chi? Wow, guarda che... Io lo faccio prima di te Io lo giro tutto da sopra, non ti ricordi? Cosa? Oh, scusate Lo giro tutto da sopra, la prima volta che lo vedi la... Ah, merda! Non ti spune più dopo Ma prima di me cosa Ma non ti spune più dopo I'm navigating the continent to create a man Oh, sai quando l'ultimo è che è... When I first came to this... Eh... Cass? Eh... Ma... Ma... Ma io ho una domanda Sì, è già andata Allora... Ma se io usassi una gemmettina del cazzo... Del cazzo, no? Uh... Sì Eh... Nel senso io ho tre fiaschette, ma ho venti gemme Sì Le curano, no? Sì Usale Sì, sì Curano Sono limitate? Boh Per chi poi si definisci? Eh... Non lo so, è quello il problema Dovete dirmi se sono limitate Non te lo diamo, io se sono limitato E te, vivek, ve lo dici Non ti ho neanche ascoltato il coca Il video, mi sa Sì, devo un attimo impararmi bene Il bossette A parte che ogni volta che muoio, cazzo, mi voglio una vita, ma... Non è giusto? È una nuova meccanica Eh, ne ho capito Non è che tra dieci morti non posso più farlo perché mi sciotta No Qualcuno ha... Qualcuno ha fan software e ha pensato invece che fosse una bella idea Eh... Qualcuno non ha capito un cazzo Cazzo qua vive In sto posto C'è anche il passaggio per... Il pezzo sotto No? Sì? Questa? La parte qua? Sì, ma... C'è... No? Un pezzo sotto intendi? Tipo quella parte qua? Mi si attiva? No? Non ne ho... Dei battere il boss? Non ne ho capito Ah... Ah, ok Già, la chiave è il boss Ok, ok Ma sì... C'è un fottutissimo invasore... Ero lì appena... Ci ho appena stato io, no? C'è un fottutissimo invasore... Dennis l'armaiolo Che di... Ah sì... Oh madonna quella... Sì, sì... Quello del... Il fottino che c'ha fatto a te feragno, sì Quelli che ne vivendo Mi hanno dato un gazer del lana... Mi hanno dato un flusso di anno... Che cazzo si chiama quella lì? Mi ha shottato Ma cazzo vado a batterlo... Ho cese l'ho fatto l'osso di riposare... Non so come... Dopo che mi avevo ucciso velocemente mi è stato sfrotto via Tornarò quando sono più forte Adios... Adios baby Il punto è che puoi invaderti anche se non sei umano... Porca pazzana... Pezzi di merda... E' scuola questo... Ma questa è scuola... Ah sì... Vabbè... Eeeee... 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 E' vero... E' vero... E' vero... E' vero... No, no, sto prendendo... E' vero... Esatto... E' vero... 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 Vado a fare il gigante... Il mio primo boss... C'è una mano? A me... A me serve... A me serve... A me... No, non sono un mano... Oh, fai cazzo... No, a me serve una mano... Ho detto... A te fai cazzo che vuoi invece... Col C'è un gatto... No, dai... No, no! No, no... No, dai... No, no... No, no! no andatissima adesso è il pro che sale no 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 sto diventando vuoto via nel cocco sto diventando e ciao ma poi troppo veloci nemici cazzo sì c'è anche non puoi schivarli come su ds1 non puoi correrti vicino puoi usare la tecnica del puoi usare la tecnica dell'anello oscura come su ds2 cioè è un primo poi capiamo ancora uso un'altra tecnica del buono cazzo il cambio di tono anello oscuro da finire l'anello oscuro si dal segno oscuro la tecnica dell'anello oscuro la tecnica dell'anello oscuro la tecnica dell'anello oscuro l'anello oscuro vede vede aiutami vede 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 la tecnica dell'anello oscuro che di solito è una copia che ti aiutava non copie sto gioco non copie ma come mi ha colpito e ma mi ferisce mentre attraverso la nebbia no 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 andata non è andata no 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 ahi andata come totale non hai posto giusto c'è la strada giusta qualsiasi cosa significhi dora si è andata non doveva accadermi sta cosa nooo non doveva cazzo se non doveva bisogna che le armature scalavano che mi considera che mi danno che mi danno ma 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 Sì, salgo, ma non c'è il polo, non c'è il giusto, non c'è il giusto. Sì, salgo, non c'è il giusto, non c'è il giusto. Non c'è il giusto, non c'è il giusto, non c'è il giusto. No, niente prove, raga. Cazzo, ma c'ho metà vita! Ma ho metà vita, ma come faccio? Mi sciotta? Eeeh, cambiii... Non farti colpire... No, ma vive, ma no, non hai capito, ho metà vita perché a fuori di morire mi si riduce... Eh, non farti colpire, così non ti scioppa. Sì, certo. Eeeh... E non morire su Dark Souls è come dire... Entra, entra, entra... No, non entra, non entra, non entra... No, è... No, è... No, è... No, è... Esatto. No, ho già capito quella prima, ma... No, ma... Potrei... Ma mi richiederebbe troppo dispendio di mentality, troppevore di gioco, per ostinarmi a fare qualcosa che potrei fare dopo. Eeeh, trovo un'altra spada e andiamo a troppare con l'altra spada. Trovo l'ultima volta, però. Perché io mica mi arrendo così facilmente. Ma che si dica poi che pochi scambi hanno fatto il meno. Anzi... Anzi... Io non mi arrendo quasi mai. Avrei molte cose da dire su questa affermazione. Troia. No, raga, ho trovato il modo, eh. Eh, mi picchia. Ma perché ho poca fida, cazzo? Avessi... Ce l'avessi full... Ce la farei. Ho trovato il modo. Ho trovato il modo. Impugno nella bar da doppia mano. Schivo il colpo. Schivo il suo affondo. E gli faccio il colpo caricato, che fa due giri. Gli tolgo tipo... Oh... Ho un quinto di vita. Ho un colpo. Un quinto? Un quinto? Ho anche un quinto? No, fai un sesto, dai. Eh, ma ho metà vita. Lettere a me mi giuro, ho metà vita. Cazzo. Sono già nel 40. Che cazzo. Big Bang che sta calmando il soppo. 50... 50 mila anni, non neanche in realtà. No, sei 60 mila. Ho trovato una strada. Ho trovato una strada. 50 livelli, che cazzo. Raga, ho trovato una strada. Che sta fatto? Eh, ma mi sa che è un po'... Eh, vado da solo, perché mi sa che è per prendere un oggetto. Mmm... E mi sa che di me le pallafitte non ho preso un oggetto. Quanto cazzo è lento per aver le fiaschette in sto gioco di merda. Eh, anche le azioni sono. A piccole quantità. Un ciascino. Oh no! Mi sa che... esatto. Quell'oggetto là sotto, come lo prendo? Non mi sono lanciato giù qui. Ah, ne copriamo anche quell'oggettino. E figlio umano. Ehm... 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 Li shotto, quasi. Così? Tutto c***one. Tutto c***one, ok. Cadoi con l'arco, ci arriva io no. Cosa fa ne? 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 Tornando. Ah. Quell'oggerizzo da qui costituisco. Cosa fa ne. No. 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 strada strada tenuta era un passo dal lanciarla di sotto invece si vada mentali sì 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 più è sempre quella parte da metto questo è era conto la strada di vento e la mano ha trovato trovato strada quando il mio cuore strada ho trovato strade quanti topi cosa famiglia famiglia per riflettere per te che ho un video non posso subire tanti cazzo mi metto un dubbio gigantesco metto è partito la cat man Stai accanando Stai incontrando dei codici di gioco E sta aumentando la vita del boss Finito, ho trovato la strada Ma dove? Cosa? Dove veniamo? Mi sembra un po' di merda Aspetta Perché io qua sto pestando i... Due scheletri che fanno l'animazione con lo scudo E non pigiano comunque danno Qua il falò è questo qui del... Sempre questo qua del... come si chiama? Del cardinale, del capitello Del capitale Del capanale Del cardinale Ci sono... Vive che ha finito il gioco invece, sta finendo il gioco Io te qua che arranchiamo, facciamo io che faccio 12 danni, 6... 8 quando va bene Se è che prendi... Se è metà vita Vive che è che è a livello 58 Non ci credo No, non ci credo Ho full vita ora Ho usato un effigio e mi è tornata Ma... Andiamo a fare il boss? Doppia vita Ma... No, me ne faccio metà io e metà voi E quindi mi sei danni? Eh, niente, allora no Però da solo E ora a metà vita riuscirei a fargliela eh Cioè, ho capito tutto Mi shottava, cioè mi shottava Non riesco perché ho tipo 10 punti vita ancora Andiamo a fare il boss? No, no, no Ho trovato strade A parte che c'è un tipo... ah, ecco Non esso Ho trovato... Strade Strade Ma là? Come... Ma là c'è un oggetto Perché là c'è un oggetto? Aspetta, non ti guardo in giro? Non l'hai preso, non l'hai preso quello già Eh... Sì, ma... Cogliona... Iris... Troia... Vabbè... 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 Minchia... C'è tanto... Eh che non faccio già 4 anni? Eh? Cocchi? Eh? Ma... Ma... È stato Vivek? No, sono stato io Come? Prendetti il gioco del mio... Prendetti il gioco dei miei sei... Dei miei sei danni No, ma... Come siete voi che mi picchiate? Cazzo! C'è quello là che ti sta sperando le frezze Ma è vive! Fate prove Vabbè... Vabbè... Plùpùplùpùpùpú Sei pllùpùpùpùpùpùpùpùpù Venite venite, ho trovato, ho trovato No No Ma ho lo scudo Ho il cazzo di scudo Come fa a farmi danno? Questo gioco mi sembra inutile lo scudo Ma quella camminata su di S2 lentissima Proprio in posa Madonna Ci sono più livelli in realtà di camminata C'è qua molto lenta C'è qua un po' più spedita C'è qua l'animazione dalla camminata? No No, 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 ci ho fatto No, no, no Prima che perda un'altra effigia, cazzo No, papà L'altro dubbio grosso che è andato prima era Ma si possono troppare le effigie? Ehm... Sembrazione qua che ci fosse qualcosa che non si potesse droppare Però dopo averne uno, ok, no? Eh, aspettaci un po' di ptp Le droppare, ok, ma le vedi la persona? Lascia... no? Sì, lo vedo Io posso anche prenda Sì, sì, lo prendo, prendo Grazie Bene Ma cazzo prendi? E adesso devo fare un test Guardate quanto danno faccio con l'arma così No, lasciamene uno Sì, 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 sì Sì, sì, sì E quindi io se prendo abbastanza posso mettere la stessa freccia dell'anima? Oh, 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 che cazzo è? Come ne servono due? Cosa? Come funzionava? Mi servono due per camere? Dei spezia dall'anima? Oh, mi basta non avere due slot Se trovi un'altra freccia mi ha migliorata Ed equipaggi entrambe avrai doppio giustamente Sì, sì, dove trova? Eh, sì, ma non posso andare da nessuna parte Oh, oh Apri, apri, apri veloce Il gioco di merda Spadalunga fuoco Spadalunga fuoco Ma non sei full metto? No Ma... Ma quelli non sono quelli totali? Scusa Sono il massimo Eh, esatto Non sono quelli che hai adesso Non li vedo quelli di adesso Mi fa massimo Non li vedi? Non li vedo Non li vedo Non li vedo No, ma neanche in instato lo vedevi, scusa? Quanti ne avevi? Raca Cioè, la vedi totali e basta Ho una spada a fuoco Eh bene Subito provarla Non ci vio un cazzo di nessuno E vuoi convincermi a fare il fuoco? Dai provo a farlo con la spada del fuoco Non potenzava Senza conoscere Senza conoscere il morse Vado a farla più uno Divino intanto Sì Tranquillo Easy Cazzo, che mi segue? Aspetta Dai, non voglio farvi quittare subito Cerchiamo altre strade Ci saranno Bene, torniamo Non ho più scherzo È stato veloce È stato molto veloce No, no, raga Continuiamo No, non ho più più scherzo È stato velocissimo Devo farmi anche io il Il ciccio Carciccio in realtà dovrebbe andare a prendere anche la spada di fuoco che magari mi torna inutile così, va, via mh, perché è sempre romante ma vabbè, dovevo che mi hanno fatto cadea mi hanno imbalzato in testa ma fa pocaria ah, è accultato a te, giù buono ma dove sta andando? ma guarda dove va quello lì, dove va? mi stava scappando, poveretto no, ma mi stava seguendo me, ma andiamo già giù già mette ore regga, regga, non possono scappare regga, non devono scappare ma io sto potenteando una spada di fuoco ma non so se il mio nemico sarà demore di fuoco e nessuno me lo dice, se è debole al fuoco esattamente, nessuno te lo dice eh, potete dirmelo voi? io non lo so onesti Vivek, forse sì, ma non so se te lo diamo sì, vivek lo sa, lo so, che lo sa ma perché dovrei dirtelo? vivek, perché tu mi vuoi bene? è una domanda questa quando come hai detto le puoi, perché tu mi vuoi bene? affermazione affermazione se gli vuoi bene, vivak è privito, vuole appena al cuore ma ci fai tu mi 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 dici per favore se è debole al fuoco non credo che lo diamo ma perché dovrei ma perché dovrei dirlo? perché così so se investire o no risorse è quello, ok è sti cazzi direi anche no, no puoi dire sti cazzi c'è stato un modo per scoprirlo c'è stato un modo per scoprirlo qual'è? vabbè, è picchiato per vedere se gli fai più di danno con quella o con quella o con la baratta se gli fai più danno con questa a due mani vuol dire anche è debole al fuoco altrimenti no easy, no? ma no, vabbè per me non funziona così cosa non funziona? ma in un gioco basato sulle statistiche e i numeri non funziona vediamo ovvio che la baratta fa più danno in generale vabbè, le mie doppi lame del fuoco contro il Lunagran e le tue lame del tuono o la baratta contro lo stesso mostro appena fatto fuori l'ogre mille anime anche ma perde subito la vita a quest'arma di merda allunga si spadina di merda le mie anime copine si no qui uno si è lanciato uno si è lanciato non sotto si è lanciato maledetto maledetto nice con queste simili a prendersi mino g il sindicato delicune pericuriti e mi beck mi dici qual è l'attacca abile del p è la normale è la prima mostra della combo Quello che fa molto lenta Da destra verso la sinistra Ok, provo Ovviamente il peritardo da due Devi farlo con un tempo in bisogno che teniamo più particolare Raga, siete pronti per fare il bossettino? Provo quanto da solo anche io Sei pronto tu? Poi certo sono pronto Dove farlo? Eh, ma voi? In mezzo di farlo anche io in solo, lo sto facendo Poi se vuoi fare un tentativo e fargli la metà vita Io metto il segno Tanti i titti li seguono Non so se vai il crito dal boss Boh, dritto Eh, lo metto il palore Eh sì Ok Ah, è sbagliato. L'ho messo. Ok, però, mi dovete promettere che a metà vita lo fate voi. Sì. Basta che sopravvivi. Basta. Metti in un corner. Allora, io ho coperto prima. Cerberto. Cerberto. Secondo. Vai back Kimour. Kimour. C'è un muore. No, non era proprio così, però. C'è un muore. Non era così. No, non era così. Ma quindi, c'è un'assata al boss? Questa raga, è o la corsa o... Ci penso io. Sì, ma stai calmo che ti stanno imbloccando tutto. C'è un muore. No, non è così. No, non è così. C'è un muore. 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 Questi cochi? Se ne è andato? Voi dove siete? Al boss praticamente Ma no Ma... Per un attimo FK o o per un attimo FK? Anche ho visto un drago giù Di fuoco, vabbè, faremo Un drago? Quello là ti sento con un drago È tipo una salavandrina Eh, una salavandrina, un drago Un drago Eccomi ragazzi, sono quasi da qui FK No, io io Ok, la tattica dopo Dopo che il cochi lo parta a metà Eh, tu lo distrai E io... E io l'ho fatto Allora... Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì No, non gli faccio un cazzo. E la metà deve arrivare. Eh. Non hai stamina, non attaccarlo, recupero la stamina prima. Oh, però lo infocco, lo infocchino. Lo infocchido. Lo infocchino. Lo infocchino. Focchino focherlo. Oh, sbagliato, sto scrivata, sbagliata, sbagliata. Ahia, metto. No, ma recupera vita, ho visto ora. No, no, è vero. No, no, è vero, che cazzo dici, recupera vita. Ma smettila. Te lo giuro su chi volete. E cazzo è, malenia, malenia. Raga, guardategli la vita, per favore. Ma no, stai recuperando vita. Eh, fate una cosa, guardategli la vita. Intanto prima o poi mi colpirà ancora, nel senso, non è che riesco a farlo. Con la spada, quando mi colpisce con la spada. Mi sono infatti colpia, ne è basta. Mi sono infatti colpia, ne è basta. Mi sono infatti colpia, ne è basta. Eh, sta colpito, non ha impressionato vita. No! Mi dispiace, non volevo. No! Come mi ha colpito il figlio di puttana. Nel donno farebbe una roba. Ma quella se ti prende fa male. Fa di peggio. Fa molto di peggio. Ora che a me è metà, eh. Ma cosa vedi? Ma che metà vedi te? Ma che metà vedi? Andata. Ma fare calmo e non fare cose. Raga. Che schifo le ceschette in questo gioco di merda. Quanto lente. Non sono capace a usarle. Ma che schifo. Non sono capace a usarle. Un quadrato. No, se fosse così semplice è tutto. No, no, venite subito qua perché lo faccio altrimenti non spengo le play fino a domani. Coki. Non devi mica farlo per forza. No, 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 no. Non l'hai capito te forse. Guarda l'ho appena in ufficio. Intanto che aspetta i dadi. Non l'hai capito bene. Ho capito due cose. Una che sei troppo scassa per battle. Secondo che vuoi comunque cercare di battle e non ti stai riuscendo. Non è che c'è molto alto da capire. Un filmato a lavorare. Non è che sia pervole unioni. E' beccato, non è quello. No, non è. Poi pure cosa vuoi. e devo usare le gemmine, non le peschette, sono troppo lente maledetto mentre non posso evocarti si si adesso è mai per segno tanto vado a ripuderti in palazzano ok come c'è vicino insomma vero per trovarci con la baratta se vuoi vai più danno con la baratta con lo sport la baratta però con c'è più mobilità è il titelina mi sono da tutti i te ma vede come picchia guarda c'è già le gagne al più otto tipo più otto no ma non è vero c'è più quattro potrò si farla anche voi va tu, va tu vado, vado via, via via se lo butta giù no no eh no cos'è il demonetto ah 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 nah salta su di nuovo qual è sì non dovrebbe ma salta su lì eh 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 questa era bella cioè una bella troppo è raramente l'ho visto c'è effettivamente l'affondo lì quante volte visto molte poche volte due affondi così è raro sì ma il problema è un altro eh via via però ti picchia eh qua ma perché non lo sto picchiando io non l'ho toccato io non l'ho andata che cosa ora ho lo spot per guardarmi ok ok no no l'avevo zaccato lo spot ma si metto andiamo a farlo per strabotte c'è ma in dè no 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 esatto sai che ho mostrato la metà eh ma te ma non so che scherzo mi usi te ma le tue metà sono molto diverse dalle mie dove l'hai imparata nella scuola siamo nati cochi inizio ma aia no 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 aia qui maia cosa è brutto ho la tua vita e quindi non ho mai detto e quindi e quindi il piccolo e quindi prima come la seconda cosa la tua vita è come se fossi morto è come se fossi morto perché perché se guarda la tua vita hai perso un pezzo come quando inizi a perdere i pezzi eh sì è vero perché ti ho maledetto ecco ma sono metà un centimetro gli manca no dai fatti seri però un centimetro gli manca no siamo seri sì sono seri che cazzo fa perché questo è molto raro dai ma sono qui in metodoro sì sì nooo vabbè se ho qualche spot lo colpisco ancora sì sono fortissimo ho visto ah ma sono fortissimo ah ma sono fortissimo cochi 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 ma raga ma chi l'ha visto cochi 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 ha 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 ah ma cosi semplice ma cos'è difficile giudici e comunque non è arrivato fuoco e adebo al fulmine perché non lo so sì perché ero non ho capito che devo di funghi pericolo un po' comune volante soffre elettro ricca non c'è un cazzo che sono andato avanti un po' secondo me lì non lo becca però se si sposta lui così mi fa un favore pochi, già fatto un piano giusto e ci sono i nemici che ti inseguono ovviamente è Sì, adesso ho finito il posto, strano. Sì? Eh, non mi piace. Faccio un farò, è il che mi piace. Andiamo nel posto strano. Allora, forse è uno. Dizzone... 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 Dizzone smorto. Aio! Efficio umana per due. Ma dove siamo? E lì ti ha il palo, dai! Corre lontano. Dizzone smorto. Cosa fa? Devo andare un attimo a Mari Joao. Ah, ma cosa? Ma in che senso? Ma in che senso? Ma... Giù la... Sì, più o meno. Sì. Ehm, vediamo se anch'io riesco usare la spada del fuego. Ma che è... Finita. Posso buttare via sta lama spezzata. De merda. Quanto c'è? Quanto c'è? Vedi sta qui. Dieci no. No... No... Certo... Sì, sì... Sì, sì. D'altro in tutto questo... Il cochi... Non ha mai trovato il nido di Darzun Sudo. E' vera? dici cosa non l'hai mai trovato non sai neanche cos'è dice dice c'è una spada decente evviva evviva adesso è il primo passo del percorso questo servo questo punto anche trovare un po' di stamina schifo non farebbe eh infatti ho trovato su stamina evita evita 15 si lamenta della vita ho appena fatto no ne avevo 10 quando ho fatto il boss ho appena fatto 5 livelli di vita ma sii io c'ho 5 basta no no ho 15 9 6 vi credo portarlo su come è brutto Luca 5 intelligenza sono stupido 20 forza ma cos'è aspetta cos'è sta statistica adattabilità aumenta le probabilità di sopravvivenza ma che coso poche bellissima io voglio sopravvivere di più ma in che senso forse che quando ti danno un colpo mortale hai la probabilità di sopravvivere un po' qui si sa esce lì di potamon ne sopravvive con un HP ma posso potenziarlo anche con queste tre titaniche in più 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 bro posso vabbè rai spengo dai sì che puoi bene è un buon è un buon momento cazzo no vado da una sbloccata un po' sbattuto cosa puoi di più da la vita un ducano che mi fa acquista oggetti da cosa vendi lunga l'acca sai che anche la spada l'acca non è affatto male avevo giocato un po' all'inizio con quella si vende lo stock l'acca è un buon momento l'acca 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 è anche distrutta abbiamo anche fatto vedere che si potevano usare dei tipi non ne è approfittato bene dai ci sentimo domani sì ciao ciao notte ciao notte notte notte